Un obiettivo centrato dall'amministrazione fanese che non si è fatta sfuggire l'occasione di ottenere risorse per migliorare e adeguare, dal punto di vista energetico, la Casa della Cultura. Il comune di Fano si è infatti aggiudicato un bando da 400.000 euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al quale potrà intervenire all'interno del Teatro della Fortuna. Un edificio storico che si articola su cinque piani, dal seminterrato al sottotetto, per 3.800 metri quadrati di superficie e un volume di oltre 28.000 metri cubi. Un risultato straordinario ottenuto da un lavoro immenso fatto in tempi brevissimi. L'importo totale è 650.000 euro, quindi il comune parteciperà con 250.000 euro, ma importantissimi questi 400.000 euro che ci permettono di fare dei lavori importanti. Forse non noteremo delle differenze entrando in teatro, però facciamo dei lavori strutturali sugli impianti, quindi andando a sostituire tutto l'impianto di climatizzazione e anche sulle luci di scena che sono attualmente molto energivore. Quindi andandole a sostituire prevediamo che complessivamente avremo un risparmio di 20.000 euro all'anno rispetto a quello che spendiamo oggi. E la fine dei lavori per quando è prevista? Allora come sappiamo le tempistiche del PNRR sono veramente rigide e anche molto strette, quindi la fine dei lavori per ora dal bando è prevista per settembre 2023. L'assessore ha poi ringraziato l'ufficio dei lavori pubblici, l'ufficio Europa, la ditta Politecnos e la presidente della fondazione Teatro Katia Amati. Interventi programmati permetteranno a questo edificio di fare un passo in avanti nella classe energetica che da lei passerà alla D. Il presidente ha rimarcato appunto il grande lavoro di squadra che c'è stato. Sì, siamo molto contenti perché l'interesse primario era quello di teatro-città e questo è fondamentale. Mettere insieme le esperienze di chi opera all'interno dell'amministrazione comunale insieme ai tecnici del teatro, questo significa poi arrivare a progetti di questo tipo che secondo me poi sono un'anteprima di quello che si può poi fare, perché come sapete PNRR e soldi ce ne sono, progetti devono essere pronti, questo ha dato il là. Per ora siamo molto contenti, ci mettiamo subito al lavoro per fare il cronoprogramma, per rispettare i tempi che è fondamentale, ma soprattutto per arrivare a questo efficientamento energetico che per noi è stata veramente una grande impresa e soprattutto oggi siamo contenti perché un finanziamento così importante insieme anche a una parte di finanziamento che metterà l'amministrazione comunale, ci permetterà veramente di parlare di risparmio energetico e luoghi sempre più accoglienti da tutti i punti di vista.